Musica 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 ciao amici benvenuti in questo nuovo video affrizzantissima dove siamo siamo qui a verona verona con questo super panorama più precisamente oggi c'è il toccati il toccati cos'è il toccati te lo dico io te lo dico io il toccati è il festival dei giochi di strada internazionale no è il festival internazionale dei giochi di strada i giochi di un tempo c'è lo scianko adesso andremo a scoprirli tutti quanti non c'è la playstation mi dispiace no purtroppo no ma forse i cinesi hanno inventato qualcosa di simile perché ospiti d'onori sono quattro province cinesi che andremo a scoprire con i giochi tradizionali cinesi sapete che noi siamo matti per l'asia quindi la tappa è obbligataria andiamo a farci un giretto che ne dice per assistere a uno spettacolo di arte maglia di percorso io adoro giochiateci a vediamo mmm No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peccato che ho comprato solo una porzione per gym, ma non ce n'è. Eh, sì, peccato. Oggi colazione per strada, pranzo per strada, siamo due vagabondi oggi. Due vecchie. Non siamo riusciti ad aspettare, dire, vabbè dai, arriviamo a casa e ce la mangiamo a casa. Era proprio chi diceva, mangiami, mangiami che sono buonissima, mangiami. Bene ragazzi, il video d'oggi è finito. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso iscrivetevi, condividete e mettete tantissimi like. E ci vediamo al prossimo video, volevi dire qualcosa? Sì, voglio un cinese, dai. Da passeggio. Un cinese da passeggio. No, ma mi mettono una troppa allegria. Voglio avere degli asiatici attorno a me perché mi fanno stare bene. Trasferisci di inambio? Ci sto pensando. Ci sto pensando. Nelle domande. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.